Un bel traguardo per la nostra nazionale di volle femminile, che si è qualificata alle Final 8 di Nations League e alle Olimpiadi di Parigi. Quindi un belissimo traguardo e ovviamente noi saremo lì a fare il tifo per la nostra nazionale di volle femminile. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube per non perderti i prossimi video in uscita e noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!